Clamoroso colpo di scena in casa Taranto non sarà Pier Giuseppe Sapio il nuovo direttore sportivo dei Rosso Blu. Sono state ore frenetiche quelle appena trascorse legate in particolar modo alla figura del tecnico. Da un lato la società punta a trattenere Giuseppe La Terza, dall'altro Sapio dialogava con Abascal, con quest'ultimo che ragionava con il Basilea per rescindere il contratto che lo lega al club svizzero fino al 2024. L'ormai ex responsabile del settore giovanile tarantino a questo punto non si sarebbe reso più disponibile ad accettare l'incarico perché riteneva Abascal un perno fondamentale del suo nuovo progetto tecnico, accordo quindi saltato definitivamente. E a questo punto, salvo ulteriori sorprese, il condottiero del Taranto anche nel corso della prossima stagione sarà Giuseppe La Terza, ritenuto dalla proprietà un ingranaggio fondamentale dal punto di vista tecnico. Per il ruolo di DS invece sarebbero in ascesa le quotazioni di Elio Di Toro, con cui sarebbe in programma un colloquio a stretto giro, da non accantonare del tutto la pista Danilo Pagni che però partirebbe in svantaggio. Solo una suggestione a oggi e niente più invece l'esperto Salvatore Di Somma.